Questo modulo didattico è dedicato al tema della pianificazione che è stato un argomento centrale nella storia dell'intelligenza artificiale e tuttora lo è. A questo argomento sono stati dedicati sezioni intere di convegni di intelligenza artificiale, convegni ovviamente interi e molti ricercatori hanno dedicato a questo argomento tutta la propria attività di ricerca. Noi lo affronteremo quindi in maniera superficiale, daremo i concetti fondamentali e lo affronteremo dando un taglio molto applicativo. Noi stiamo utilizzando il prologue come linguaggio di programmazione, siamo la facoltà di ingegneria e quindi cercheremo di affrontarlo e introdurlo in maniera molto orientata all'applicazione pratica e vedremo degli algoritmi fondamentali di pianificazione direttamente implementati in prologue. Ecco, in grosso modo gli argomenti che affronteremo in questa unità didattica e nelle prossime all'interno di questo modulo sono appunto un'introduzione al concetto di pianificazione e cercheremo di vedere che relazioni ci hanno fra la pianificazione e il problem solving che abbiamo visto finora. Faremo qualche citazione sulle origini della pianificazione quindi a Stripes e Robot Shake in particolare quindi ricorderemo l'opera del contributo decisivo dato all'origine da Nils Nilsson. Poi appunto affronteremo più in dettaglio, entreremo nello specifico quindi vedremo la pianificazione cosiddetta in avanti implementata in prologue quindi in particolare il concetto di operatori come potrebbe essere implementato anche in prologue e illustreremo i problemi classici, i problemi della pianificazione classica e cioè quali sono i limiti della pianificazione classica in particolare il frame, il qualification, il ramification problem. Sicuramente nella successiva unità didattica, non in questa, affronteremo il tema della cosiddetta mean sense analysis che sarebbe sostanzialmente la pianificazione all'indietro e anche questa qui la vedremo implementata in prologue e poi concluderemo dando semplicemente un cenno a quelle che sono la pianificazione cosiddetta best first e il partial order planning. Bene, allora in questa unità didattica diamo i concetti fondamentali della pianificazione e nella successiva vedremo l'implementazione in prologue della pianificazione in avanti e poi in quella successiva ancora l'implementazione in prologue della means and analysis. Cominciamo dai concetti fondamentali pianificare sostanzialmente significa cercare di concepire una sequenza di azioni che fanno sì che un certo obiettivo che l'agente artificiale ha e che questo obiettivo non è verificato, o perlomeno non pare essere verificato nello stato del mondo in cui si trova a luce di quelle che sono le capacità percettive, sensoriali che l'agente ha sapendo l'agente che ha a disposizione delle azioni per poter modificare lo stato del mondo dunque pianificare significa concepire una corretta sequenza di queste azioni e una corretta implementazione in ciascuna di esse tale per cui in quella sequenza con cui è stata pensata la sequenza di azioni farebbe sì che lo stato del mondo venisse modificato raggiungendo un altro stato in cui un certo obiettivo che attualmente non è verificato in quell'altro sarebbe verificato quindi sostanzialmente pianificare e problem solving come l'abbiamo inteso fino adesso sembrano in qualche maniera essere concetti coincidenti ed infatti lo sono la pianificazione in un certo senso rappresenta l'implementazione più estrema della ricerca nello spazio degli stati pianificare sostanzialmente significa fare ricerca nello spazio degli stati però in che senso io dico che è una implementazione estrema semplicemente perché si tratta di riportare gli stessi concetti che abbiamo visto finora in ricerca nello spazio degli stati in un contesto in cui però gli stati sono descritti non semplicemente in maniera atomica come stringhe come atomi quindi per esempio non so i nomi delle città abbiamo imparato come andare da Ara da Bucarest e in quello spazio degli stati ogni stato è semplicemente indicato in maniera atomica neanche in maniera fattoriale dove sostanzialmente lo stato del mondo è semplicemente indicato come un vettore di valori che possono essere modificati quindi un vettore di variabili che possono essere modificate queste variabili essendo variabili che possono avere un valore numerico qui abbiamo qualche cosa di più e cioè raggiungiamo in qualche maniera un livello di complessità maggiore nella descrizione degli stati e quindi è quello che cambia non è tanto l'algoritmo anzi come vedremo non sarà l'algoritmo di ricerca nello spazio degli stati ma sarà la rappresentazione dello spazio degli stati in particolare la rappresentazione dello stato il quale non sarà più rappresentato né da un semplice concetto atomico né da un concetto atomico che potrebbe essere anche una proposizione se vogliamo che può essere vero-falsa né da un vettore di valori vero-falso ma sarà più in generale rappresentato addirittura da una teoria del primo ordine cioè in pratica pianificare significa fare ricerca in uno spazio delle teorie del primo ordine o addirittura anche non del primo ordine ma insomma cerchiamo di limitarci un pochino cioè gli stati sono sostanzialmente rappresentati da assiomi espressi per esempio in logica del primo ordine e quindi sostanzialmente uno stato del mondo è rappresentato da una teoria del primo ordine e così ci ricongiungiamo in qualche maniera a quelli che sono stati gli argomenti iniziali di questo corso che sono stati totalmente dedicati alla logica quindi sappiamo come rappresentare il mondo attraverso la logica del primo ordine nella misura in cui ciò è possibile farlo con tutti i limiti anche che la teoria del primo ordine comporta allora supponiamo di poter rappresentare il mondo con una teoria del primo ordine supponiamo di poter anche modellare le azioni che la gente avrebbe a disposizione mediante gli attuatori di cui è dotato per poter modificare il stato del mondo allora qualunque azione dovrebbe essere modellata come un operatore, chiamiamolo così che modifica la teoria che rappresenta lo stato del mondo in maniera conseguente, semanticamente corretta rispetto all'azione che quell'operatore dovrebbe modellare quindi se una certa azione modifica lo stato del mondo aggiungendo delle informazioni quindi modificando lo stato delle cose quindi ne risulterà uno stato del mondo diverso perché certe cose che prima non erano vere poi saranno vere certe cose che prima non erano vere poi non saranno più vere ebbene dovremmo cercare se è possibile di modellare quell'azione mediante appunto un operatore che andrà a modificare la struttura assiomatica che descrive il mondo in maniera tale da farlo corrispondere al mondo cambiato a seguito dell'azione che sarebbe stata posta in atto quindi quello che si fa sostanzialmente è quello di sostituire a un vettore per esempio di posizione di pezzi letteralmente una teoria una teoria che è fatta di assiomi e che potrebbe avere al suo interno se volessimo considerare la pianificazione a livello di complessità più alta queste teorie potrebbero avere nel proprio interno delle vere e proprie formule primo ordine con tanto di variabile chiaramente saranno tutte formule chiuse perché in qualche maniera dovranno predicare un qualche cosa che è vero o che è falso nel mondo e laddove ci fossero delle incognite le teorie comporterebbero anche l'uso del connettivo OR di disgiunzione oppure del quantificatore esistenziale per indicare che esiste un oggetto che gode una certa probabilità o un oggetto che è in relazione tal dettaglio con un altro oggetto ma non sappiamo quale questo sarebbe sostanzialmente raggiungere un livello di complessità estrema nella ricerca del spazio dei stati perché faremo ricerca all'interno di evoluzioni di stati del mondo dovute alla messa in atto di una o di più di un'azione essendo questi stati del mondo rappresentati da teoria del primo ordine come ho detto finora quindi avremmo veramente una complessità notevole quindi pianificare significerebbe sostanzialmente fare ricerca in uno spazio delle teorie partendo da una teoria che descrivo stato il mondo iniziale per arrivare a una teoria in cui un certo obiettivo è verificato quindi quello che dovremmo fare è capire una volta che ha passato questo concetto se è passato questo concetto quello che dovremmo fare è capire come accennavo prima come modellare l'azione cioè l'azione che cos'è? è un'azione o qualche cosa che dicevo prima trasforma il mondo e quindi se noi il mondo lo rappresentiamo come oggi il primo ordine trasformandosi il mondo dovremmo anche produrre una nuova teoria che rappresenterebbe il mondo modificato quindi l'azione sostanzialmente deve essere modellata come una trasformazione da una teoria a un'altra e questo meccanismo che prende la teoria e la trasforma in un altro è un meccanismo col punto sintattico e viene denominato operatore quindi che cos'è l'operatore? l'operatore è il meccanismo sintattico che modifica una teoria e dovrebbe semanticamente essere il corrispettivo sintattico di quella che nel mondo reale è l'azione e quindi semanticamente dovrebbe avere come significato quella di rappresentare l'azione che verrebbe compiuta quindi un'azione sostanzialmente un operatore dovrei scrivere lì un'azione che fa trasforma una teoria in un'altra lì devo correggere la slide e invece che azione si dovrebbe scrivere operatore l'azione trasforma il mondo l'operatore trasforma la teoria che rappresenta il mondo quindi fin dall'inizio poi lo vedremo magari meglio nella successiva unità didattica l'azione è stata rappresentata sostanzialmente individuando tre componenti fondamentali quelle che sono le precondizioni che è una lista sostanzialmente di formule diciamo così per il momento poi cerchiamo di essere più concreti più precisi perché detto così chiaramente la pianificazione è un qualche cosa che potrebbe addirittura avere una complessità e tornare nel campo della indecidibilità però per il momento teniamoci generici cioè non stiamo a guardare problemi dettati all'implementazione e quindi diciamo che l'azione l'operatore dovrebbe essere modellato in questa maniera come una terna di componenti la prima sono le precondizioni cioè le formule che devono essere vere perché nella teoria di partenza nel mondo di partenza perché quell'azione possa essere posta in atto e quindi all'interno dell'operatore le precondizioni saranno formule che devono essere conseguenza logica della teoria di partenza A perché l'azione possa essere compiuta l'azione che rappresenta l'operatore possa essere compiuta l'azione che l'operatore rappresenta possa essere compiuta l'operatore ha delle precondizioni che sono formule che devono essere vere nella teoria che rappresenta lo stato di partenza perché l'azione che l'operatore rappresenta possa essere compiuta in quel mondo in quello stato l'aggiunta le aggiunte invece sono formule che devono essere aggiunte alla teoria iniziale per produrre la teoria conseguente in pratica che cosa sarebbero queste formule queste formule dovrebbero andare a rappresentare le modifiche per aggiunta che l'azione compie per cui per esempio se c'è un'azione di spostamento di un oggetto da una posizione A a una posizione B e questa azione viene compiuta nel mondo reale totalmente allora essa avrà come conseguenza che a seguito della sua messa in atto il mondo sarà cambiato perché ci sarà una certa formula che prima non era vera che l'oggetto era in B e adesso sarà vera quindi l'aggiunta è che quell'oggetto è stato spostato adesso in B è nella posizione B la cancellazione invece la lista delle cancellazioni sono formule che devono essere rimosse dalla teoria iniziale per produrre B e quindi nel caso per esempio che ho appena fatto dello spostamento di un oggetto il fatto che il primo fatto forse l'unico che deve essere rimosso dalla rappresentazione del mondo è che l'oggetto si trova in A per cui si trovava in A adesso si trova in B e quindi il fatto che l'oggetto si trovava in A deve essere rimosso essere rimosso nel caso più semplice che vedremo nel caso della nostra implementazione significa cancellare quel fatto in generale significherebbe per poter essere veramente semanticamente corretti operare affinché dalla teoria B non solo non sia presente espressamente scritto il fatto che l'oggetto è in B ma non si possa neanche derivare il fatto che l'oggetto è in A non deve essere più vero che l'oggetto è in A significa che non solo non deve essere scritto esplicitamente come assioma che quell'oggetto che abbiamo spostato è in A cioè nella posizione di partenza ma questo fatto non deve essere neanche derivabile come conseguenza logica quindi questo è concetto importante la complessità è quella quindi in qualche maniera modellare semanticamente in maniera semanticamente corretta un'azione compiuta nel mondo reale dove il mondo è rappresentato con teoria del primo ordine sarebbe un'operazione molto complessa perché la stessa verifica delle precondizioni potrebbe cadere nell'indecidibilità la verifica delle cancellazioni quindi verificare che una certa formula non è più derivabile come noi sappiamo dalle lezioni iniziali di questo corso intelligenza artificiale potrebbe essere un'operazione che richiederebbe un tempo infinito quindi messa così diciamo che la pianificazione è un qualche cosa che probabilmente al di là della possibilità di essere condotta in maniera corretta e completa in tempi finiti però possiamo fare delle ipotesi semplificatrici innanzitutto supponiamo che lo spazio di lettoria sia ground cioè andiamo ad aggiungere e rimuovere formule chiuse ovviamente ground perché se fossero formule non ground quindi con delle variabili potremmo avere dei problemi questo se la teoria è solo composta da formule ground in qualche maniera ci semplifica la vita come vedremo anche nell'esempio che sto per fare quindi sostanzialmente il concetto di operatore verrebbe modificato leggermente le precondizioni sarebbero formule normalmente non ground che devono essere conseguenza logica di A perché l'azione possa essere compiuta in A le aggiunte sempre formule ground che devono essere aggiunte ad A per produrre B e le cancellazioni formule ground che devono essere rimosse da A per produrre B e certo così non è che abbiamo assicurato che quelle formule ground che andiamo a rimuovere non siano comunque derivabili dal punto di vista logico e dalle altre formule però mediante un uso appropriato delle rappresentazioni dei fatti nonché delle regole che potrebbero far derivare fatti da altre questa operazione la cancellazione è una cancellazione che basterebbe fare la cancellazione per poter assicurarsi che poi quel fatto cancellato non sia anche derivabile come conseguenza logica se abbiamo utilizzato delle regole per descrivere il mondo che siano semplici allora per illustrare questo concetto faccio un esempio utilizzando un mondo che abbiamo visto anche quando abbiamo parlato della ricerca nello spazio di stati questo esempio cioè lo scenario dell'esempio che sto facendo lo traggo dal libro di Russell e Norwig è il cosiddetto aspirapolvere che abbiamo visto nella ricerca spazio di stati quando abbiamo introdotto l'indeterminatezza o la capacità percettiva limitata qui torno di nuovo a quell'esempio per illustrare i concetti fondamentali della pianificazione come ricordiamo abbiamo qui un aspirapolvere che può trovarsi in due stanze una stanza A o una stanza B e che ha a disposizione un'azione percettiva che può essere fatta nella stanza A o nella stanza B e nella stanza B e quindi ha due sensori di percezione che va a vedere se c'è polvere nella stanza A e se c'è polvere nella stanza B e poi c'è anche la capacità di vedere in che stanza lui si trova se nella stanza A o nella stanza B questa è la sensoristica per quanto riguarda la capacità di attuazione cioè di modifiche del mondo lui può aspirare e quindi pulire la stanza dove si trova ricorderemo che questo semplice scenario comporta sostanzialmente otto possibili stati del mondo che sono quelli qui rappresentati in figura e taggati con i numeri 1, 2 da 1 a 8 abbiamo a suo tempo anche modellato l'azione di aspirare e di muoversi e di spostarsi dalla stanza A alla stanza B e viceversa e quindi adesso noi che cosa facciamo andiamo a applicare a questo scenario il concetto di pianificazione innanzitutto pianificare significa che andiamo a rappresentare il mondo non in maniera atomica quindi con per esempio delle costanti numeriche 1 o alfanumeriche 1, 2 eccetera ma come teorie e quindi dobbiamo individuare innanzitutto un linguaggio del primo ordine che ci consente di poter rappresentare queste teorie questo linguaggio del primo ordine dovrà essere più possibile essenziale e quindi possiamo pensare ad esempio di utilizzare le costanti A e B per rappresentare le due stanze e quindi e poi basta e poi questa è un'ipotesi ovviamente che io ho seguito è quella di utilizzare un predicato aspirapolvere in con un solo argomento per indicare se è vero o falso che l'operatore che l'aspirapolvere si trova in quella stanza e analogamente polvere in con un solo argomento che si intende che potrà essere semplicemente solo la stanza perché non abbiamo altre costanti non abbiamo neanche funzioni polvere in che starebbe a significare se la stanza A o la stanza B è sporca in pratica come vedete questi tre predicati altro non fanno che andare a rappresentare in forma di logica dei predicati le risultanze che dovessero provenire dalla sensoristica di cui abbiamo a disposizione abbiamo un sensore per sapere in quale stanza si trova l'aspirapolvere un sensore per sapere se la stanza A è sporca un sensore per sapere se la stanza B è sporca quindi ad ogni sensore corrisponde banalmente un predicato allora aspirapolvere in A polvere in A polvere in B sarebbe quindi la rappresentazione di quello che prima chiamavamo 1 adesso come vedete è rappresentato invece da una teoria composta da tre fatti ground i cui assiomi sono tre fatti ground non abbiamo nella rappresentazione del mondo regole complesse con delle variabili non abbiamo per esempio non so regole che dicono che non so come altro potremmo complessificare questo scenario non abbiamo regole che per esempio ci dicono che se la dimensione della polvere è fatta di grani troppo grandi maggiore di un tot allora l'aspirapolvere non può aspirare se avessimo complessificazioni di questo genere potremmo metterci un pochino nei guai però appunto adesso per motivi didattici cerchiamo di tenerci il più possibile in condizioni di linguaggio estremamente semplice qui vedete che ho rappresentato per ciascuno di quelli stati quella che sarebbe la teoria che rappresenterebbe quello stato ok a questo punto avendo rappresentato con delle teorie del primo ordine i vari stati del mondo dobbiamo andare a rappresentare le azioni abbiamo detto che l'azione viene rappresentata mediante un operatore quindi l'azione di spostarsi a destra potrebbe essere modellata mediante un operatore write dal nome ovviamente dell'azione che sarebbe come dicevamo come ho detto prima una tripla di precondizioni aggiunte e cancellazioni essendo tutte e tre queste componenti dell'operatore delle liste di di che cosa di fatti che nel caso delle precondizioni devono essere veri perché l'azione possa essere compiuta nel caso delle aggiunte dovranno essere rimossi dalla descrizione della della teoria che descrive il mondo nel caso aggiunte dovranno essere aggiunte chiedo scusa nel caso delle cancellazioni dovranno essere rimosse quindi io posso per esempio rappresentare l'azione muoviti a destra semplicemente avente che possa essere in atto la precondizione che l'aspirapolvere si trovi in A in quanto che se si trovasse in B avrebbe a destra un muro e quindi l'azione non potrebbe essere posta in atto di spostarsi a destra l'aggiunta dell'azione muovi a destra è quella di aggiungere il fatto aspirapolvere in B perché prima non era vero perché si vede che l'aspirapolvere doveva essere in A e la cancellazione bisogna rimuovere è stata un'azione di movimento quindi bisogna rimuovere rimuovere l'informazione circa la posizione originaria dell'aspirapolvere quindi bisogna rimuovere il fatto che l'aspirapolvere era in A è in A quindi se noi applichiamo questo operatore a questa teoria la teoria viene modificata in quest'altra si rimuove aspirapolvere in A e si aggiunge aspirapolvere in B può essere compiuta quest'azione in questa teoria sì perché la precondizione aspirapolvere in A è vera e quindi da questa teoria si passa a quest'altra teoria da questa teoria qui si passa a quest'altra teoria e right può essere compiuta perché aspirapolvere in A è vera viene cancellata aspirapolvere in A e viene aggiunta aspirapolvere in B vedete in questo caso particolare la lista delle cancellazioni coincide con la lista tra l'altro la lista in entrambi i casi composta da un solo elemento coincide esattamente con la lista delle precondizioni ma questo è un caso particolare non necessariamente deve essere vero per qualunque operatore possiamo applicare nello stato che prima chiamavamo 3 che adesso è definita da questa teoria qui l'azione right sì perché la precondizione aspirapolvere in A è vera l'effetto dell'azione cioè della posizione di questo operatore quale sarà che questa teoria sarà modificata in quest'altra perché viene rimossa aspirapolvere in A viene aggiunta aspirapolvere in B tutto il resto rimane invariato ecco spero che sia chiaro vediamo l'altra è solo l'altra azione che ha a disposizione l'aspirapolvere l'aspirapolvere può aspirare e qual è la precondizione perché aspiri beh se non vogliamo sprecare energia bisogna che nel posto dove si trova l'aspirapolvere ci sia la polvere e come facciamo a sapere qual è il posto dove si trova l'aspirapolvere possiamo concepire la lista delle precondizioni come composta da una sequenza di fatti non ground aventi in comune una o più variabili in questo caso una variabile cioè io posso modellare l'azione di aspirare in questa maniera posso aspirare la polvere se l'aspirapolvere è in una certa stanza e la polvere è in quella stessa stanza il fatto che qui ci sia la stessa variabile vuol dire che l'aspirapolvere e la polvere si trovano nella medesima stanza qui c'è una variabile andare ad aggiungere o rimuovere fatti come per esempio qui vediamo nell'azione di aspirare abbiamo che la cancellazione ha un fatto non ground sarebbe problematico però noi accettiamo adesso nella modellazione di prestazione di avere polvere in x come cancellazione perché perché quando l'algoritmo del pianificatore andrà a verificare la operabilità dell'azione di aspirazione e quindi la possibilità di poter mettere in lista l'operatore aspira andrà a vedere se le precondizioni sono verificate e nel tentare di verificare se che le precondizioni sono verificate andrà a istanziare la variabile x e quindi quando poi si tratterà di produrre la la teoria che conseguente alla messa in atto dell'azione e cioè della messa in atto del messa in piano dell'operatore la variabile x che compare qui nelle cancellazioni sarà istanziata quindi quello che adesso andiamo a fare è questo supponiamo ad esempio di prendere questo operatore qui che modella la mia azione di aspirare e ad andarla ad applicare alla teoria cosiddetta numero 1 che rappresenta lo stato 1 del mondo cerchiamo innanzitutto se può essere applicata allora si tenterà di verificare aspirapolvere in qualche stanza e x verrà unificata con a a quel punto si deve verificare anche quest'altra precondizione polvere in a a questo punto perché x è stata unificata con a polvere in a è vero nel senso che è presente proprio nella lista dei fatti che descrivono la teoria insomma i propri della teoria e quindi l'azione di aspirare può essere compiuta cosa aggiunge l'azione di aspirare non aggiunge niente cosa toglie toglie la polvere che era in quella stanza e quindi a questo punto x è da quindi va rimosso il fatto che la polvere è in a quindi da questo stato qui si passa a quest'altro stato qui che è la teoria di prima con rimosso il fatto che l'aspirapolvere è in a se applichiamo per esempio la sessazione in quest'altro stato ci chiediamo può essere applicato allora aspirapolvere in x si x unifica con b a questo punto polvere in b si polvere in b e quindi può essere applicata cosa viene rimosso viene riposto che la polvere in b e quindi l'operatore aspira mi fa transire da questa teoria a quest'altra mi farebbe passare da questo mondo a quest'altro ovviamente non è l'unico si potrebbe applicare l'azione aspira anche a questa teoria e si potrebbe applicare l'azione aspira ovviamente anche a quest'altra teoria qui ecco e quindi quello che adesso noi dobbiamo fare sostanzialmente è quello di cercare adesso di capire quali sono le potenzialità e le problematicità di questa estensione della ricerca nello spazio dei stati ad una ricerca nello spazio delle teorie cioè della pianificazione intanto ci lanciamo anche un pochino oltre le nostre teorie potrebbero essere per esempio dei programmi prolog vi ricorderete che un programma prolog altro non è che una teoria del primo ordine espressa in forma di clausole programma definite quindi io potrei pensare di applicare la pianificazione in un contesto un po' particolare abbiamo un certo programma iniziale in cui un certo goal non è verificato concepire un pianificatore che mi vada a modificare il mio programma prolog per farlo arrivare ad un programma in cui un certo goal è verificato il goal potrebbe essere per esempio quello di implementare una certa corrispondenza input-output e quindi quello che sto facendo sostanzialmente sto concependo in forma di pianificatore è un meta programma prolog perché sto pensando di implementarlo in prolog questo pianificatore che mi va a lavorare su programmi prolog stessi che saranno sostanzialmente questi programmi prolog oggetto del suo lavoro quindi li chiamiamo programmi a livello oggetto lui a livello meta che cosa va a fare mi va a affinare partendo da un programma iniziale e un certo programma per renderlo sempre più adatto a poter soddisfare certi goal e quindi è un programma che se non fa perlomeno modifica altri programmi questa sarebbe una possibile estensione dell'applicazione del concetto di pianificazione la pianificazione come l'abbiamo vista adesso ha dei problemi lo diciamo subito nel senso che dei limiti non dei problemi come l'abbiamo affrontato adesso escludiamo il fatto che sia l'osservazione sia parziale quindi abbiamo escluso l'indeterminatezza che deriva dalla percezione parziale e abbiamo anche escluso l'indeterminatezza che deriva dal fatto che le azioni potrebbero avere effetti non deterministici questi sono i limiti principali poi tutti i cambiamenti del mondo sono provocati solo dalle azioni azioni predeterminate innanzitutto vuol dire che non ci sono altre agenti che stanno agendo nel mondo va bene questo è ovvio cioè ovvio non è ovvio nella realtà è ovvio in questa impostazione che abbiamo dato ma il problema sarà come adesso vediamo per un attimo è che supponiamo che l'operatore possa essere nella presentazione semanticamente corretta dell'azione il che significa che l'azione in qualche maniera ha degli effetti che sono indipendenti dal contesto in cui viene viene eseguita e dovremmo anche essere capaci di capire quali sono tutte le conseguenze del compimento dell'azione nella ad list nella list della list delle cancellazioni dovrebbero essere specificati tutti i fatti che vengono aggiunti e quelli che vengono rimossi cosa che ovviamente non è sempre possibile fare un altro limite della pianificazione classica che vedremo come rimuovere con l'event calculus è quello che il tempo non esiste il tempo in pratica è scandito dall'azione stessa il che significa che le azioni sono istantanee non hanno una durata quindi noi concepiamo gli effetti delle azioni come aggiunte che vengono fatte a regime cioè dopo che l'azione è stata compiuta non esiste un transitorio cioè l'azione non ha una durata temporale e non esiste neanche un tempo fra un'azione e l'altra nel senso che il mondo fra un'azione e l'altra rimane lo stesso per cui di fatto il tempo è scandito dalle azioni stesse non c'è qualche cosa che cambia fra un'azione e l'altra e quindi è come se il tempo non passasse sostanzialmente questi sono i limiti in particolare torniamo al punto 3 tutti i cambiamenti del mondo provate solo delle azioni predeterminate in realtà quindi questo comporta i tre problemi classici nella pianificazione che sono il cosiddetto qualification problem cioè non è facile elencare tutte le precondizioni che garantiscono che un'azione può essere compiuta e cioè in realtà noi dovremmo presupporre per esempio nel caso dell'aspirapolvere che abbiamo visto prima nelle precondizioni dell'aspirazione per esempio è che il motore non sia rotto che la presa di corrente sia attaccata o che la batteria se in caso c'è una batteria non si scarica dovremmo fare non solo che l'aspirapolvere e la polvere si trovino nella stessa stanza ma anche che tutta un'altra serie di fatti siano veri e quali essere tutti questi fatti non è scontato per esempio che la stanza sia una stanza con un pavimento su cui si può scorrere sul fatto che il pavimento sia in una certa sostanza invece che di un'altra sul fatto che eccetera eccetera e quindi ovviamente si tratta di semplificazione la seconda la seconda semplificazione è quella nota come ramification problem non è facile elencare tutti i fatti che non cambiano a seguito del compimento dell'azione e cioè tutto ciò che non viene modificato dall'azione non è semplice che è in qualche maniera questo problema ramification problem complementare a quello più noto di tutti che è frame problem cioè non è facile elencare tutti i fatti che non cambiano a seguito del compimento dell'azione e cioè per esempio io sposto un oggetto da un post all'altro stava su un certo supporto prima e quel supporto si vede che era in grado di sostenere il peso dell'oggetto poi lo sposto su un altro cosa cambia? cambia che adesso l'oggetto sta su quest'altro supporto ma come faccio a sapere che la struttura del supporto non è cambiata perché potrebbe essere che il supporto si è deformato a seguito del peso dell'oggetto che l'ho messo sopra potrebbe addirittura essersi rotto e quindi come faccio a sapere che che non è cambiata la struttura del supporto dove io ho spostato l'oggetto non lo posso sapere nel senso che probabilmente io mi sono limitato a una descrizione del mondo in cui suppongo che spostando un oggetto da un post all'altro il posto che dopo lo occuperà sarà tale per cui quel luogo non verrà modificato a seguito della presenza dell'oggetto ecco tutte queste complessità ovviamente vengono ignorate dal pianificatore classico bene io qui concluderei questa unità introduttiva nella prossima unità esamineremo la concettualizzazione di pianificazione che è dovuta a Stripes che è stato il capostivite dei pianificatori del 1971 e poi vedremo direttamente l'implementazione in prologue di un pianificatore cosiddetto in avanti un forward planer di un pianificatore di un pianificatore di un pianificatore Grazie.